Oioioi Zerbino! Il mio nome proprio non lo dovevi fare! Puoi incazzarti finchè vuoi, il tuo personaggio fa ridere alle masse, diciamo, ma proprio il mio nome non lo dovevi fare, ma io sono uno importante! Poi cosa ti arrabbi? Che cosa ti arrabbi che poi ti si alza la pressione, il colesterolo devi dire no, il colesterolo sia balsoia, come ho fatto io, ma non ne vale la pena! Stai scianti, non ne vale la pena, te lo dico io! Che poi, che io non sono neanche contattato per giocare a Sirius Sam, manco ce l'ho io Sirius Sam, che questo qua, uno immagini Sam, uno molto Sirius, così col cannone, ma non me ne frega niente, al massimo abbiamo Team Fortress in comune, che a me piace tanto, se poi a te non ti piace perché muovi sempre, a me sono fatti tuoi però, è un gioco che piace, non ti devi arrabbiare! E comunque, il problema è che se uno ti contatta privatamente, non puoi fare il fenomeno anche lì e dire, c'ho degli impegni, c'ho l'aperitivo, ma che ti credi di essere? Che impegni vuoi farci credere di avere? Dai! Che poi non capisco perché ti devi arrabbiare tanto, io ti ho solo contattato perché qua devi sapere che allo Chateau de Versailles siamo molto curiosi di di come mai tutto questo successo, ma perché? Per quanto ingiustificato è comunque insuccesso e quindi abbiamo deciso, non abbiamo nel senso hotel, come hotel, ma abbiamo noi, gruppo, abbiamo deciso di contattarti per un paio di domande, ma tu hai proprio un caratterino di merda dentro fuori, privato, personaggio, proprio tutto insomma, proprio non ti fai mancare niente e quindi tra una fase di circostanza e l'aperitivo, gli impegni e poi una fase era pettinare i frati, ah ah, grasse risate qua, alle Chateau de Versailles, di quando abbiamo sentito la battuta sui frati. A questo punto mi sembra il caso di di competere sullo stesso livello, perché anche io posso mettere gli occhiali da solo al chiuso, non sei figo solo tu. Però io ho anche il cappello del professor Layton, quindi ho vinto io. Poi riguardo alla lingua italiana, come fai tu ad accusare me di sbagliare i termini? Beh, io mi sono permesso un termine inglese un po' italianizzato come deletare, deletare sembra uno che deve andare in bagno, viene da delete, non da delete, ma a parte questo che, vabbè, pensiamo prima a mettere a posto l'italiano, poi alle lingue straniere ci penserà qualcun altro, che se no mi devi pagare, non è che faccio da professore a tutti. Per l'italiano mi sono permesso di usare questo termine per avvicinarmi al vostro slang dei giocatori, anzi dei fanboy, FPS più più, e ho pensato di usare questo termine, mamma mia, quanto te la siamo presi, che poi te sei il primo con il tuo slogan, lisciami le mele su di ciò, ma guarda, se mi tocca anche spiegare queste cose qui, dicevo, ma poi il discorso di World of Warcraft gioco di merda, ma, ti devo svelare un segreto, per giudicare un gioco in modo obiettivo, obiettivo, poi tu mettici quanto b vuoi, tanto l'italiano è un optional, per giudicarlo in modo serio, va bene, serio, in modo serio, devi giocarci per più di cinque minuti, non è che se vai nella grotta, ti fanno fuori i coboldi, è un gioco di merda, perché io se io Sam di solito non muoio mai, allora un gioco dove muoio è una merda, ma un gioco devi provarlo a fondo, devi scoprire di più, non puoi giudicarlo in cinque minuti, non è che se te lo dicono Sfascia Carros o il Tecno Vichingo, lì, non sono opinioni personali, devi provarlo personalmente. Sì, insomma, per quanto riguarda World of Warcraft, tu non me lo devi toccare. Andando, ah, carico, andando oltre, per quanto riguarda i migliori giocatori del mondo. Siamo buoni tutti a dire che siamo i migliori giocatori del mondo nel nostro gioco preferito. Il mio gioco preferito, devi sapere, ma lo conoscerai sicuramente, è Giulia Passione, veterinaria in Australia per PC, sì, tipo un'espansione, e sono migliore giocatore del mondo. Ci gioco solo io, vorrei anche vedere. Comunque, facciamo così, salutami la sala di creazione dell'oratorio Quante R, che qui alla regia di Versace abbiamo un sacco da fare, ma proprio un sacco, ma così, tanto dico anche io, anche se in realtà vado a dormire adesso. E quindi niente, adesso mi devi lasciare i miei impegni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.